Ha cambiato la mentalità delle allenatrici, a questo punto è fondamentale, è per quello che le ho detto che noi faremo all'inizio di gennaio un corso per tutti e chi partecipa poi andrà avanti, chi non partecipa, ripeto, io sono disposto anche a togliergli il tesserino di allenatore, perché bisogna essere preparati, non si può andare avanti 50 anni sempre alla stessa maniera, no? Forse c'è stata anche una nostra leggerezza a non esserci accorti per tempo su questa cosa, però meglio tardi che mai facciamo anche un po' di mia colpa e giustamente tolgo anche quel po', facciamo mia colpa però adesso siamo sul pezzo in tutto e per tutto.